Musica Per me è un piacere essere qui con voi Metà della sala è sicuramente di, come dire, tra virgolette romana Quindi non utilizzerò il termine sarò breve perché a Roma sarò breve una minaccia Ma sarò veramente breve Resisto alla tentazione di leggere l'intervento che ha preparato il Presidente Tagliavanti Molto articolato ma, come dire, ho la possibilità, ho la fortuna Di poter contare sull'intervento del nostro Presidente Lombello Che ero saluto vicino a lui, ho visto che ha, diciamo, diversi appunti E parlerà, entrerà nel merito alla discussione di oggi Quindi eviterò di parlare di temi importantissimi quelli di oggi E limiterò il mio intervento a un indirizzo di saluto Per me è un piacere enorme Evito di citare, di fare nome e cognomi per il timore di dimenticare qualcuno Mi limito soltanto al piacere di sottolineare, di, come dire, di essere qui Di ringraziare in particolare il Rettore, il Professor Cannata Perché è stato mio relatore alla tesi di laurea Quindi per me è un piacere enorme Infatti ho sfruttato l'occasione di farmi la foto Anche se a distanza di quasi 30 anni dalla laurea Ho paura, come dire, a fare un benchmarking rispetto a qualche tempo fa Vedo qui tanti amici, quindi veramente un piacere Indirizzo di saluto, benvenuti in questa sala Lo ricordava il Presidente Iervolino, che ringrazio Siamo, diciamo, all'interno del sistema camerale Camera di commercio di Roma Questa è una sala un po' particolare E' anche un po' la testimonianza di quello che Forse è la nostra vera vocazione Cioè la possibilità di trarre sempre spunto Dalle cose che sono avvenute nel passato A interpretarle in modo nuovo Oggi qui noi parliamo di università Insieme al sistema camerale Insieme alle camere di commercio In realtà le camere di commercio e le università Sono parenti stretti Sono parenti molto più vicini di quanto si possa pensare E mi piace immaginare che anche noi oggi qui Come dire, in qualche modo figurativamente Tiriamo fuori qualcosa Ci portiamo a casa qualcosa Elaboriamo qualche idea Tiriamo fuori Anche noi prendiamo un pezzettino Del Tempio Di questa antica testimonianza E cercheremo di applicarlo Nel nostro impegno professionale Nell'università Nel mondo della ricerca Sul piano delle iniziative imprenditoriali Nell'avvio di nuove attività imprenditoriali La nostra abilità è stata sempre quella Di sapere In questo tempo abbiamo inteso Un concetto di innovazione in modo diverso Di interpretare in modo nuovo cose che già esistevano Io volevo raccontare un piccolo particolare Mi è venuto in mente oggi Guardando la giacca Il concetto di innovazione Innovazione non è soltanto quella che crea prodotti Servizi o attività che non esistono Che è destinata a cambiare Come può essere un iPad Come può essere un iPhone Destinate Innovazioni che cambiano Completamente il nostro modo di vivere Ma anche trasformare Rimpostare Mettere in modo diverso cose che già esistono Un'innovazione di tipo combinatorio Ricordo un particolare Noi uomini abbiamo il vezzo Di portare la giacca con i bottoni Sulla giacca Spesso con i bottoni aperti Questo è un vezzo tipicamente italiano In realtà è un esempio di innovazione Tipicamente italiana Come nacque? Nacque quando arrivò Napoleone Voi sapete che tra l'altro Questo luogo qui dietro c'è via de bourot I romani lo chiamano bourot Perché c'erano i bourot francesi Napoleone non arrivò mai a Roma Però aprì comunque Diciamo degli uffici Full intendenza francese Quando arrivarono i francesi in Italia Come dire Napoleone fu affidato all'esercito di riserva Ve lo sapete doveva fare come dire Un'azione divergente Diversiva Rispetto all'attacco degli austriaci Alla rivoluzione francese Comunque aveva un esercito Come dire Di riserva Quando li passavi rivista Purtroppo Essendo come dei soldati Anche di una certa età Tendevano a soffiarsi il naso Con la giacca Allora per evitare Che questo avveniva Era poco marziale Napoleone inventò I bottoni Sulla giacca Gli italiani Come dire I sarti italiani Che videro In questo L'arrivo dei francesi La grande innovazione Gli piacque molto Questa storia dei bottoni Però Giustamente Dimisero verso l'esterno Perché se no Non si vedevano Verso l'interno E così nacque La giacca Che noi conosciamo E questo è un esempio Di innovazione Semplice Che però Come dire Ha cambiato Il nostro modo di vestire Il nostro modo di presentarsi Un successo enorme Allora Mi fermo qui Perché se no Come sempre Parlo troppo Vi ringrazio E spero che Come dire Anche qui Troveviamo qualche spunto Qualche idea Innovativa Che non necessariamente Deve essere un fatto Rivoluzionario Ma che Traendo Diciamo Spunto E ispirazione Da questi luoghi Chissà quante idee Nei nostri ragazzi Nelle nostre Attive universitari Riusciremo a tirar fuori Comunque Buon lavoro Grazie a tutti E benvenuti Pegaso Molto più di un'università Grazie a tutti Grazie a tutti